Siamo sulla terrazza Martini di Milano per conoscere meglio da vicino Eagle Projects, una società italiana innovativa formata principalmente da giovani, da media 30 anni, uno dei pochi casi in Italia. Come possiamo migliorare questo trend in Italia? Diciamo che l'Italia è una protagonista di questa grande innovazione digitale, noi siamo fieri di farne parte, dobbiamo però essere esattamente coscienti di quello che sta per avvenire e dunque per questo alla Camera stiamo lavorando per informare i colleghi parlamentari ma soprattutto stiamo operando perché non solo nelle segrete stanze da un lato oppure nelle aziende che si occupano di questa materia si inizia a parlare di questi argomenti. Parlando dell'indagine conoscitiva sul 5G e Big Data, che cosa sta emergendo? Beh sta emergendo che quello che avremo di fronte tra pochissimi anni non è l'evoluzione di quello che abbiamo normalmente con noi, cioè lo smartphone o il tablet, ma è la rivoluzione delle nostre vite. Tutto questo darà dei grandissimi risultati per l'innovazione ma soprattutto permetterà all'Italia di essere veramente avanzata nel mondo. Per cogliere queste opportunità per il futuro tecnologico quale rete lei si immagina? La rete italiana deve essere italiana, tricolore, deve non essere verticalmente integrata e questo è un obiettivo che è un obiettivo immagino comune e poi ci deve essere la disponibilità di tutti per lavorare perché l'Italia sia veramente avanzata su questo argomento perché l'Italia è famosa per la sua cucina, per la sua cultura, per la sua musica, per tantissimi argomenti. Noi desideriamo che l'Italia sia famosa per essere uno dei primi paesi che è veramente avanzato da questo punto di vista. Questa giornata di oggi questa società lo dimostra anche. Grazie. Grazie, grazie a voi.